Amici ci vediamo 6-7-8 maggio all'università di Teramo per il Teramo Comics e soprattutto vi troverete 6-7-8 maggio allo stand della scuola di Fometto Abruzzo e l'8 maggio preparatemi perché faremo la foto con molti di voi con il mio personaggio Lord Skull Warrior vi aspetto in tanti e soprattutto non mancate ci vediamo queste date al Teramo Comics Grazie a tutti 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 Grazie a tutti